Siamo in Via Dandolo, oggi è un bel giorno perché ha riaperto Gialli Pizza, ha riaperto con Cristiano e chiediamo innanzitutto a Cristiano qual è la sensazione di questa riapertura che è venuta proprio oggi qui. Mi sento molto entusiasta, molto carico di ripartire, ho una gran voglia e spero di andare avanti alla grande. Oltre alla tua determinazione, alla tua volontà, Varese ti è stata molto vicina, ti chiedo se hai qualcuno da ringraziare in particolare e questa riapertura un po' di chi è figlia. Sì, diciamo che le persone da ringraziare sono tantissime, non posso ringraziarle tutte però fondamentalmente tutte le persone che mi sono state vicino, i miei genitori anche sicuramente, la vice sindaco che mi ha sostenuto e mi ha aiutato, anche l'ufficio edilizio del comune, i giornali, insomma tutti, tutti quanti. Chi e cosa si trova venendo da Giallipizza? Beh, innanzitutto abbiamo un listino di oltre 100 pizze, facciamo degli impasti diversi come ad esempio dal carbone oppure impasto integrale, normale, senza alcamut eccetera, e tanta 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 pizza ecco. Gli orari d'apertura? Gli orari d'apertura siamo aperti tutti i giorni, tranne sabato mattina, domenica mattina e il martedì sera, basta, per il resto siamo sempre aperti. Bene, quindi dopo averlo sostenuto è il momento anche di venire fisicamente da Cristiano, bocca al lupo. Grazie Crepi, grazie a tutti.